Ma è vero che ChatGPT non sa fare i calcoli? In questo video cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo tema che mi rendo conto, e sto notando davvero da tante persone con cui parlo, che a quanto pare non è così chiaro. Ovvero, ChatGPT sa fare i calcoli, risposta breve? No. Risposta lunga è un po' complessa e si può girare questo limite. E in questo video vediamo anche come. Ma cerchiamo un attimo di capire perché non bisogna usare ChatGPT per fare i calcoli, o almeno non utilizzarlo in modo così leggero. Andiamo un attimo su ChatGPT e proviamo a chiedergli di fare un calcolo. E lui mi dice, il risultato è questo qui. Andiamo a vedere se è effettivamente così. Ok, no, ha sbagliato. Ci aveva preso 107.000, diciamo, la prima parte del numero l'aveva indovinata, tra virgolette, ma l'ultima parte no. E lui mi ha detto tranquillamente che il risultato è quello, quindi avrei potuto essere fregato. Ma questo perché succede? I ChatBot che utilizziamo usano tendenzialmente dei modelli di linguaggio per risponderci. Quando un modello di linguaggio legge un numero che noi scriviamo, non lo legge veramente come numero, ma lo legge come stringa. Quindi ad esempio 2 non è visto come numero, ma come testo, esattamente come su Excel quando puoi selezionare se è un numero o testo. Inoltre sappiamo che un modello di linguaggio funziona predicendo le prossime parole più probabili, o meglio i prossimi token, che sono delle particelle di parole. Quindi ad esempio quando io scrivo ciao come, lui calcolerà che la parola più probabile che segue questa frase è stai, in modo che venga ciao come stai. E poi calcolerà che il prossimo token più probabile è probabilmente il punto di domanda, e così via. Allo stesso modo se io chiedo ciao come stai, lui calcolerà che i token più probabili sono una risposta che descrivono effettivamente una risposta plausibile, ma che non ha certezza che sia corretta, anche perché secondo il modello la verità è quello che ha visto all'interno del suo dataset di addestramento. Quindi se c'era scritto che Donald Trump e Joe Biden sono marito e moglie, secondo il modello questo sarebbe stata la verità. Ma trovando i calcoli matematici, quindi quando un modello vede un numero, non lo interpreta come numero ma come stringa, e quello che va a scrivere, quando noi scriviamo 2 più 2 uguale e lui scrive 4, accade perché la probabilità che il token 4 segua 2 più 2 uguale è probabilmente la più alta all'interno di tutte le parole del dataset che lui ha visto. Ma non ha fatto davvero un calcolo, ha solo tirato a indovinare, e ci prende anche spesso per numeri piccoli. Se noi gli facciamo fare un qualsiasi calcolo a due o tre cifre, tendenzialmente ci prende. Però è un caso, e non sappiamo qual è il limite oltre il quale sbaglia. Ok, ma c'è un modo per aggirare questo limite? E in realtà sì. E il trucco è semplicemente quello di usare le funzioni di gpt4 per scrivere ed eseguire codice. Quindi ad esempio se io vado qui e scrivo ok, il risultato non è corretto, scrivi codice python ed eseguilo. Lui ora quello che farà sarà effettivamente andare a scrivere questo codice e lo eseguirà. E se andiamo a vedere questo numero, è effettivamente il risultato corretto. Questo perché? Per il modello è estremamente più semplice andare a scrivere la formula che deve calcolare, perché è un modello di linguaggio che riesce ad andare a scrivere le stringhe in modo sensato. Ma non è un modello pensato per fare i calcoli. Poi riesci anche addirittura a fare alcuni calcoli e questo è davvero impressionante. Ma non è pensato per fare quello. Sarebbe no come quel famoso detto valutare un pesce per la sua capacità di arrampicarsi sugli alberi. È ovvio che sbaglia. Invece quello che è molto bravo a fare è scrivere codice e poi l'esecuzione avviene all'interno della macchina virtuale che sta ospitando GPT-4 in questo momento. Quindi se noi utilizziamo questa strategia saremo sempre sicuri del risultato. Magari stiamo attenti che abbia riportato correttamente il codice che esegui il calcolo per capirci. È come controllare se una persona ha cliccato bene i bottoni sulla calcolatrice. E in questo modo possiamo essere sicuri che il risultato sarà corretto. Beh, voi direte, ok, sì Giacomo, però cosa mi serve? Facevo prima farmelo io con la calcolatrice. Cioè io posso dirti sì è vero per semplici calcoli, però se io gli chiedo cose più complesse ad esempio ho un investimento che da 1000€ è arrivato a 3000€ in 10 anni. Calcola il CAGR che è il Compounded Annual Growth Rate che è un ratio che mi dice di quanto il capitale ogni anno è cresciuto per arrivare a quel livello da quel livello di partenza. Dico calcola il CAGR sia annualizzato che mensile. Infine dimmi quanti altri anni servirebbero per arrivare a 5000€ con lo stesso tasso di rendita. Ecco, ovviamente io potrei anche andarmi a calcolare con dei calcolatori specifici queste cose, dare in input, però è molto più semplice far fare questa operazione a ChatGPT che tra l'altro mi spiega e mi fa vedere anche le formule che utilizza. E in questo caso lui mi dice il CAGR è del tuo investimento, è dell'11 a 6, il CAGR è del 0,92, un obiettivo di 5000€ ti servirebbero 4,65 anni. E quindi vedi che lui è andato a eseguire questi risultati con il codice, non se li ha inventati, non ha provato a indovinare. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Io quando ci penso, effettivamente c'era andato molto vicino, aveva beccato l'ordine di grandezza del risultato, e pensare che un modello di linguaggio ha praticamente tirato a indovinare quella cifra e ha capito gli ordini di grandezza, per me è veramente super affascinante. Tuttavia non mi ci affiderei ovviamente per fare dei conti. Quindi questo fa parte del saper usare gli strumenti di intelligenza artificiale nel modo giusto, che può sembrare scontato, ma non lo è, perché il modello non ti dice ehi no, guarda che sono un modello di linguaggio, non sono adatto a fare moltiplicazioni e non so interpretare i numeri come tali, ma come stringhe. Lui te lo dice, lo fa, e poi è sbagliato, è tantissima gente, poi si fa male, utilizza anche questi risultati. Ecco, quindi magari la prossima volta che incontri una persona che ti dice ah sì, ho fatto i calcoli con ChatGPT, ecco, chiedigli un attimo come li ha fatti perché potrebbe esserci qualche problema sotto. Bene, se questo video ti è stato utile, mi raccomando, lasciaci un like e iscriviti al canale che stiamo davvero preparando tantissimi video per quest'anno e ne arriveranno tanti di super interessanti. Ciao!